Quindi non c'è stato il tradimento, quindi MJF non ha colpito alle spalle Adam Cole, quindi dobbiamo ancora aspettare per vedere quale sarà effettivamente il futuro del titolo del mondo e non solo, anche quello che potrebbe essere solidamente il prossimo futuro della All Elite Wrestling, perché di Main Event si parla e di Main Event qua ce n'è uno parecchio interessante, quindi cerchiamo di fare un ragionamento a riguardo. Benvenuti a tutti, io sono Stefano, la voce di AW Italian Podcast, anche oggi sono qui per cercare di parlare di qualcosa che riguarda la All Elite Wrestling e oggi sono molto curioso di intraprendere un ragionamento che riguarda proprio ciò che è successo durante il Main Event di Collision, quando sostanzialmente Adam Cole e MJF non hanno vinto i titoli di coppia. Quello che abbiamo visto non è altro che un grandissimo match di coppia, con tantissimo pathos, costruito sia sul discorso della possibile vittoria dei titoli, sia sul possibile split tra Adam Cole e MJF. Quello che accade però è esattamente il contrario di quello che io mi ero immaginato, cioè io immaginavo un Adam Cole che subiva il pin, comunque perdeva in qualche modo il match, e da lì un'arrabbiatura importante da parte di MJF. Oppure, una sconfitta sì, ma mentre stava per accadere qualcosa di positivo riguardo ai due, sulla promessa che si erano fatti, che aveva cercato di fare MJF su Adam Cole, dicendo che indipendentemente da come finirà quel match tu avrai una shot titolata, Beh, a quel punto in realtà mi aspettavo l'arrivo, non so, di un Roderick Strong a rompere le uova nel paniere. Non accade niente di tutto questo, accade qualcosa di molto più importante, e cioè che perde MJF, che si sente in colpa per aver perso, e ovviamente lo dice, tira fuori il meglio della sua capacità recitativa, dove tira fuori ovviamente tutta quella parte di difficoltà, no, che ha una persona che ci teneva veramente a fare un gesto importante per sé e per il suo amico. Bene, l'abbiamo visto, è accaduto tutto quello che abbiamo potuto vedere all'interno del match, ma poi il match finisce, e accadono molte cose dopo il match. Inizialmente gli FTR se ne vanno dicendo siamo i migliori, lo sapete, e quando se ne vanno loro sul ring rimangono proprio MJF e Adam Cole. I due sono molto in difficoltà, e una parte bella è Adam Cole che va, porta il titolo a MJF, e gli dice non è colpa tua, abbiamo sbagliato insieme, abbiamo perso insieme. Come fanno le persone che insieme fanno qualcosa, no? La colpa è di entrambi, certo, uno può essere quello che ha sbagliato oppure che ha subito per ultimo, però in generale un tag team wrestling è fatto di una coppia che si deve muovere quanto più possibile insieme. Ovviamente la forza che ne tirano fuori gli FTR dal fatto di essere coppia da tanto tempo e che vogliono farlo ancora per tanto tempo porta logicamente al pensiero loro sono più abituati a lavorare insieme, quindi vinceranno grazie a questa abitudine che non hanno Adam Cole e MJF, che in realtà poi sono diventati amici poche settimane fa e hanno fatto tre match di coppia e non hanno fatto il 56. Quindi, sostanzialmente la storia è che MJF si trova con Adam Cole, che gli volta le spalle, dall'altra parte del ring, alza, apre le braccia e dice fai quel che devi. Perché dice fai quel che devi? Perché se ci pensate, con Cody è stato MJF poi a buttare tutto all'aria, con Jericho è stato MJF a buttare tutto all'aria. In tutte le occasioni in cui lui ha avuto modo di avere qualcuno con cui avere a che fare, beh, è stato lui poi a girargli le spalle. Warlow, per esempio, oppure anche con CM Punk, no? Aveva cercato di... Quindi, logicamente, Adam Cole si aspetta di essere colpito alle spalle, un calcio da dove non batte il sole, qualcosa per togliere questa amicizia e far ripartire una faida vera, concreta tra due nemici, rivali. E invece no, non accade. Poi accade un'altra cosa interessante dopo. Si spengono le telecamere, finisce la trasmissione e abbiamo il filmato ufficiale di AW Exclusive, diciamo, sui social, dove vediamo com'è andata dopo, che gli FDR sono risaliti sul ring, i 4 hanno parlato, si sono stretti la mano, MJF ha detto che, caspita, loro sono fortissimi, sono i più forti. Quindi, quindi sembra tutto a posto. Ma in realtà non è affatto tutto a posto. Non è a posto perché c'è ancora qualcosa che non va. MJF si comporta ancora in modo anomalo. MJF anche in questo dietro le quinte che vediamo. Ovviamente lo abbiamo visto a livello esclusivo da parte dell'All Elite perché le cose che rimangono lì erano quelle che prima i fan filmavano con i cellulari e venivano poi postate su Twitter e a diventare l'altra parte della storia, la storia che in TV non hai visto. Ecco, adesso l'All Elite non ti concede più questo lusso, no? Che ti fa vedere bene con i microfoni, tutto quanto, quello che accade e te lo mette come esclusiva nel proprio canale YouTube, sui propri social e quindi giustamente diventa qualcosa di ufficiale. Anche se ufficiale non dovrebbe esserlo perché è a telecamere spente. Quindi toglie i dubbi. Ma volevano farcelo vedere oppure no? Sì, volevano farvelo vedere. E quello che accade è che mi viene un po' d'ansia pensare che in realtà tutta questa costruzione possa essere stata fatta per portare MJF Face e Adam Cole Hill. Dopo aver cercato di creare in tutti i modi un Adam Cole Face e aver cercato di dare in tutti i modi MJF verso gli Hill. E però purtroppo sono successe cose nel frattempo, no? Il fatto di Punk, del suo ritorno, dell'infortunio, di quello che era successo, del fatto che lui comunque si sente ancora il campione, sempre a collision, ha tirato fuori una cintura, ha detto che questa è la cintura del vero campione, ci ha messo sulla X il suo simbolo, ha detto che quella è la cintura di collision. Lui al volto di collision è arrivato Ricky Starks a legittimare quella cintura dicendo lottiamo per quella cintura anche se boh, però intanto lottiamoci perché nel momento in cui eventualmente dovesse diventare una cintura vera, ce l'ho io. Meglio se ce l'ho io rispetto a che ce l'hai tu. Quindi sostanzialmente abbiamo una situazione al main event molto particolare, molto interessante. E c'è un pezzettino che mi ha colpito, il fatto che quando a un certo punto salta fuori il fatto che sono tutti parte della famiglia IW in questo momento, MJF in quel momento e solo in quel momento era da tanto che non tirava fuori questa cosa, diceti però fino al 2024. Ecco, sulla base di quello io sono ancora convinto che MJF debba essere il, nel momento in cui il 2024 arriva. Perché logicamente se lui è ancora il, lui può dire boh io vado, prendo la mia cintura e me ne vado, non firmo il contratto, non firmo il rinnovo. Anche se sono girate già da parecchio tempo voci di un rinnovo già firmato da MJF, ma chi se ne frega, facciamo finta che sia tutto come lo vediamo, no? Lui dice prendo e vado, non rinnovo e sono campione, me ne vado via da campione. E' una cosa che tecnicamente aveva fatto anche qualcun altro, no? E quel qualcun altro potrebbe entrare in faida con MJF. E questa cosa potrebbe essere a parte invertita però a questo punto, cioè girare il, totalmente il CM Punk e dire ti porto via la cintura e tu nel 2024 te ne vai da perdente. E magari MJF riesce a vincere questa faida, questo match e ad andare verso il 2024 con la cintura e fare un mese di difficoltà emotiva, no? In cui lui è face e il pubblico gli dice non andarti, lui dice sì però io voglio andare, cioè vorrei andare, cioè non lo so se vorrei andare, cioè capito? Potrebbe fare tutta questa scena per un mese buono. Magari a Winter is Coming fanno il match, evento, l'unificazione dei titoli, quello che volete voi. E vince MJF e quindi a quel punto MJF si ritrova a un mese dalla scadenza del suo contratto a dire io adesso cosa faccio? E a furor di popolo dire firmo per il pubblico dell'All Elite. E sarebbe una cosa molto bella, no? Verso il pubblico, verso... Oppure rigirare ancora la frittata di Re, ma che cazzo me ne frega del pubblico? E' interessante. Sono tanti scenari diversi che vedo aprirsi grazie a questa cosa. Adam Cole che diventa illo può fare in un battito di ciglia, esattamente come può succedere l'arrivo di Roderick Strong, che invece si allea a MJF e manda fuori giri Cole facendo rimanere Cole Face e mandando invece MJF tra gli ill. E' pericoloso fare una sfida MJF contro CM Punk con CM Punk Face e MJF ill perché il pubblico ti fa tutto MJF, ragazzi. C'è poco da fare. Poi il pubblico in questo momento ti fa troppo MJF. E' una situazione difficile. Molto difficile, non saprei io cosa fare se fossi in una situazione di Tony Khan. Da un lato è positivo, vuol dire che tu comunque devi cercare di trovare la soluzione migliore e devi impegnarti per questo. Dall'altro è pericoloso perché coi fan, soprattutto americani, si cammina sempre su fili sottilissimi, quindi è complicata questa situazione, questa storia. Però quella frase, quella frase specifica. Abbiamo una cosa in comune io e te Dax. Parole vietate a Stanford. Tanti segnali che sembrano contrastanti, per me sono tutti univoci, per me sono univoci dal giorno, uno lo sapete. Io sono sempre stato l'idea che MJF avrebbe continuato il suo percorso in un'elite. Da sempre lo penso, ci sono decine di video che ne parlano, testimoniano la cosa e vedremo. Intanto, se volete, lasciate un like se questo video vi è piaciuto, lasciate un commento, ditemi cosa ne pensate di questa situazione. Ho valutato anche l'opzione abbonamenti, sta per partire un mese molto interessante, dove ovviamente cercheremo di tirare un pochino le somme, cercando di capire quante cose belle ci attendono tra all-in, all-out, l'appuntamento annuale a New York e poi c'è Full Gear. L'anno è ancora bello lungo, è tutto da vivere. E lo vivremo tutti insieme, come sempre, qui sui video di AW Italian Podcast. Grazie di cuore per aver seguito, io sono Stefano, la voce di questo progetto. Noi ci risentiamo ovviamente. Alla prossima.